Musica Seconda edizione di Oratg, ben trovati, apriamo il giornale con la cronaca subito a Palermo operazione della Guardia di Finanza, Mazzette, per ottenere pensione di invalidità se persone sono state arrestate, sono stati sequestrati 911 mila euro, tra i sei arrestati anche un medico parecchio noto, ha annunciata già una ispezione della Commissione parlamentare antimafia per capire cosa sia accaduto nella filiera che porta poi appunto alle pensioni di invalidità. A finire in manette nel blitz messo a segno stamattina dalla Guardia di Finanza c'è anche lui, Agostino Genova, medico coordinatore dell'ufficio in Valli di Civili dell'ASP di Palermo, candidato con la nuova DC di Totò Cuffaro alle ultime elezioni comunali di Partinico, paese in provincia di Palermo, nel quale ricopre la carica di assessore ai servizi demografici dal dicembre 2022. Ad emergere dall'operazione Vediamoci chiaro, svolta dai finanziari di Palermo in collaborazione con l'Inps, sarebbe un collaudato sistema corruttivo, una rete di mazzette, denaro indebitamente ricevuto in cambio di attestazioni di false invalidità, rilasciate soprattutto a ciechi. Il provvedimento degli arresti domiciliari è scattato per Genova ed altre cinque persone, tra questi Rosario Cammalleri, medico abilitato dall'Inps all'inserimento dei certificati per l'avvio delle pratiche. Gli altri quattro, finiti ai domiciliari, secondo gli inquirenti, sono persone che avrebbero avuto un ruolo nel sistema corruttivo, si tratta di procacciatori di falsi invalidi, faccendieri, soggetti che avrebbero fatto da tramite tra il pubblico ufficiale e coloro che richiedevano il beneficio assistenziale. Alle sei persone raggiunte dal provvedimento, i finanzieri hanno sequestrato in totale 911 mila euro, somma ritenuta il profitto dei reati contestati. Tutti gli indagati adesso dovranno rispondere di corruzione. Agostino Genova anche di falso in atto pubblico. A casa del coordinatore dell'ufficio invalidi civili dell'Asp, nel corso di una perquisizione, la Guardia di Finanza ha trovato decine di migliaia di euro in contanti e diversi Rolex. Nel garage dell'assessore di Partinico era custodita una Porsche. Secondo le indagini, Agostino Genova, presidente della prima commissione invalidi civili e della commissione ciechi civili, avrebbe redatto attraverso falsa documentazione verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dei requisiti previsti. Ad essere scoperto e riferiscono gli investigatori, sarebbe stato un tariffario preteso dal dirigente medico per l'istruttoria delle pratiche di invalidità, redatte in assoluta autonomia senza il visto collegiale delle commissioni, violando così il regolamento del procedimento. Andiamo ad Acireale, dove alla guida di un'autovettura avrebbe compiuto uno scippo ai danni di un non vedente di 52 anni, quanto i carabinieri contestano. Un 24enne che è stato denunciato per furto con strappo. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità, indicando anche il luogo dove si era disfatto del borsello della vittima. Il 24enne è bloccato poche ore dopo lo scippo. I militari sono risaliti grazie alle telecamere di video sorveglianza. Quest'ultimo, cioè il 24enne, è stato identificato anche grazie a uno dei carabinieri che in precedenza lo aveva più volte controllato. La vittima aveva presentato denunce ai carabinieri. Era stata avvicinata alle spalle mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al cane guida per recarsi al posto di lavoro da centralinista. Un malvivente, rischiando di far cadere il non vedente a terra, gli aveva strappato violentemente dalle mani. Il borsello con dentro alcune centinaia di euro, ma soprattutto tre telefoni cellulari per la vittima fondamentali perché utilizzabile attraverso una particolare attivazione vocale. I carabinieri hanno recuperato il borsello con dentro ancora i telefoni cellulari, ma non i soldi. Rubati nella notte da un cantiere ad Acireale delle strutture. Un furto è stato compiuto nella notte ai danni dell'impresa che sta realizzando i lavori di riqualificazione a Belfrontizio, una zona verde comunale prospicente a un complesso residenziale nella periferia nord di Acireale. I ladri hanno rubato un centinaio di pedane impiegate nell'allestimento dei ponteggi e un escavatore all'impresa titolare delle opere. La ditta a giudicatari dell'appalto a sede legale nel Paralmitano, il danno da una prima stima ammonta ad oltre mezzo milione di euro tra materiale edile e il mezzo meccanico. Nel circondario non sono presenti telecamere, particolare evidentemente noto i ladri che hanno agito, tranciando la catena da questo cancello d'ingresso sulla provinciale per Santa Maria Ammalati, agendo con il favore delle tenebre, hanno caricato le pedane su un mezzo e l'escavatore per poi darsi alla fuga, praticamente indisturbati. Il responsabile dell'impresa stavano accortosi del furto, ha momentaneamente sospeso i lavori e denunciato di fatta alla stazione dei carabinieri del comando compagnia di Acireale. Nessuno ha visto o sentito nulla. Una signora che risiede nei pressi del luogo da dove i malviventi si sono introdotti nel cantiere per depredarlo sostiene di non aver avvertito rumori o presenze sospette. Le telecamere dell'abitazione sono rivolte in un secondo accesso e quelle presenti nelle residenze lungo la provinciale a quanto pare non hanno rilevato nulla. Il parco del Berfrontizio è destinatario di un fondo per opere di riqualificazione del verde con annessi locali parrocchiali di un parcheggio e la ristrutturazione dell'ex presso elementare da destinare a scuola dei mestieri attraverso un articolato finanziamento mirato all'aggiornamento delle strutture di interesse sociale dei quartieri San Cosmo e Loreto Balatelle. Il furto dei ponteggi e della scavatore ha solo momentaneamente fermato i lavori. La ditta si sta riorganizzando per ripristinare le dotazioni e riprendere i lavori già dalla prossima settimana. Tutta l'area dei vari lotti verrà attrezzata con telecamere di videoserveglianza 24 ore su 24. Un arsenale di armi a salve è stato sequestrato dai carabinieri a Catania. Era in possesso di uno 47enne in passato condannato per reati in materia di armi a Piganello. I militari dell'arma hanno trovato nell'auto tre silenziatori e due pistole a salve a calibro 9. Prive di carrello otturatore di tapporosso durante una perquisizione nell'abitazione. Sono state sequestrate anche tre pistole a salve, una pistola mitragliatrice a gas. Trovato anche un alesatore in acciaio, uno strumento professionale che viene utilizzato per forare la canna e imprimere solchi elicolidali alla stessa in modo da poterla rendere utilizzabile e conferire alla proiettile una migliore stabilità lungo la traiettoria, nonché maggiore precisione nelle lunghe distanze, dunque attrezzo che veniva utilizzato secondo l'accusa per la modifica e l'alterazione delle armi. Pottiamo adesso pagina, migliorare i collegamenti da e per le isole della Sicilia, ma non chiamatele minori. Puntualizza l'assessore regionale alle infrastrutture a Ricocchia, Salina, ha annunciato le novità in tema di trasporti del Governo regionale. Un nuovo collegamento ferroviario veloce perché a terra puntaraisi con Cefalu e Mirazzo e l'ammodernamento della flotta per le olie con la costruzione di una nuova nave aggiudicata alla Fincantieri di proprietà della Regione è pronta entro due anni e mezzo da decidere poi a che appaltarla e su quale rotta renderla operativa. Novità in tema di mobilità queste annunciate dall'assessore regionale delle infrastrutture Alessandro Aricò al focus dedicato a trasporti e insularità a Salina in occasione di Mare Festival premio Troisi. C'è la volontà del Governo Schifani inoltre di rendere più efficienti nello stretto di Messina in attesa della realizzazione del ponte le coincidenze degli aliscafi con i Frecciarossa da e per Roma e di assicurare collegamenti gratuiti per tutti i dipendenti pubblici diretti alle isole siciliane. Raggiungere le isole è fondamentale in questi meccanismi vacanzieri e non solo. Noi come Assessorato regionale ai trasporti abbiamo avviato tutta una serie di iniziative fondamentali e anche di gratuità. Pensiamo per la prima volta, non abbiamo memoria negli ultimi 60 anni, tutti i dipendenti pubblici che vorranno raggiungere le isole siciliane non utilizzeremo mai più il termine isole minori. Se lo siamo imposto proprio anche nello scrivere i decreti potranno raggiungerli gratuitamente e quindi questo è stato già un grande obiettivo che ci siamo prefissati e in pochi mesi l'abbiamo raggiunto. Si punta ad un sistema di trasporto integrato che abbassa i costi ed agevoli residenti e i lavoratori siciliani ma soprattutto consenta di attuare la vera continuità territoriale. Pensiamo per tutti i dipendenti che hanno un contratto anche stagionale potranno avere uno sconto del 60% per raggiungere le isole e quindi riteniamo che questo primo passo che ha voluto fare il governo Schifani e l'assessorato dei trasporti e anche l'assemblea regionale che ha voluto sottoscrivere e approvare questi provvedimenti importanti potrebbero dare e creare uno sviluppo per le isole eolie e non solo. All'incontro moderato dal giornalista Mario Primo Cavaleri in piazza Immacolata a Malfa hanno preso parte anche la deputata di Fratelli d'Italia Eliana Longi componente della commissione trasporti della Camera, il vice sindaco di Malfa e presidente dell'associazione albergatori di Salina Giuseppe Siracusano, il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Messina Francesco Giancola e Piera Calderone di Carontentourist. A proposito di Carontentourist, sottoposto a fermo altre sei navi della società che servono le isole eolie eustica il 6 giugno scorso, lo ricordiamo, altri tre traghetti erano stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, i sigilli erano stati sottoposti a traghetti ritenuti dalla Procura, non è norma rispetto a passeggeri con mobilità ridotta. Adesso, come è pubblicato questa mattina anche dalla Gazzetta del Sud poi dall'Agenzia, ci sarebbero nuove acquisizioni perché per raggiungere la cifra decisa dal GIP di 29 milioni di euro del sequestro, le prime non erano sufficienti. Dunque da qui il sequestro delle navi, adesso sono stati fermati traghetti Vesta, Isola di Vulcano, San Sovino, Isola di Strompoli, Antonello da Messina, Pietro Novelli, la società ha annunciato ricorso. Alcune farmacie di Palermo hanno aderito ad una campagna per contrastare il reato del revenge porn, un centinaio, le richieste di aiuto pervenute in sette mesi. Sono state oltre 100 le richieste di aiuto e assistenza arrivate alle farmacie di Palermo e provincia che hanno aderito alla campagna Stop Sexting e Revenge Porn. La condivisione pubblica su internet di video e foto a sfondo sessuale, senza il consenso dei protagonisti, spesso giovani vittime inconsapevoli, è una pratica che si sta diffondendo sempre di più. In soli sette mesi le farmacie del capoluogo che hanno aderito alla campagna dell'associazione Meteonlus hanno riscontrato un crescente numero di persone vittima del reato di revenge porn. Dietro ogni segnalazione c'è una storia diversa, alcune di queste però sono accomunate da veri e propri drammi che coinvolgono giovani di famiglie, di ogni ceto sociale. Per contrastare questo terribile fenomeno bisogna intervenire innanzitutto sul piano culturale, coinvolgendo la famiglia, coinvolgendo i genitori, spesso ignari, di quello che avviene attraverso l'utilizzo dello smartphone da parte dei propri figli, ma bisogna intervenire attraverso le istituzioni, attraverso i mass media, ma soprattutto attraverso la formazione che può avvenire anche a scuola. I giovani hanno bisogno di essere formati e informati per acquisire una maggiore consapevolezza di questi fenomeni. Ciò è necessario perché spesso le nuove generazioni crescono in maniera precoce, spesso questa crescita non è assolutamente allineata alla loro età anagrafica, mentre l'alfabetizzazione nei confronti dei nuovi media, dei nuovi strumenti che la digitizzazione del mondo in modo globale mette loro a disposizione, li espone inconsapevoli a questa nuova forma di violenza. La farmacia in tal senso si conferma un presidio, un punto di riferimento. Chi si espone inviando immagini intime spesso cade in una trappola dalla quale è difficile uscire da soli. Serve aiuto. Uno degli obiettivi della campagna è proprio quello di informare le vittime sulla possibilità di trovare una via di uscita da ricatto morale attraverso l'aiuto di psicologi ed educatori. La campagna di contrasto a revenge porn si aggiunge ad un'altra iniziativa alla quale da diversi anni hanno aderito le farmacie. Si tratta del progetto Mimosa che assiste le donne vittime di violenza. Il progetto Mimosa è un progetto dedicato alle donne che subiscono violenza, è in Italia da circa 11 anni, è nato come progetto pilota a Napoli, oggi nelle 19.000 farmacie italiane. Si è pensato di fare questo progetto data la capillarità e anche in aiuto alle donne. Le donne sono l'80% del prodotto in farmacia, entrano come madri, entrano come sorelle, entrano come figlie, ma soprattutto entrano come mogli. Ed è un posto sicuro dove se all'interno della famiglia c'è un carnificio, la farmacia è un posto certo dove le donne si possono recare. Venti a favore delle donne è il nuovo progetto dell'Associazione Tamai Ollus e Fondazione per il Sud per assicurare percorsi di libertà alle donne che hanno subito violenza. Contrastare la violenza maschile sulle donne con un approccio sistemico, intervenendo con azioni mirate su più fronti, dal potenziamento del centro antiviolenza alla riattivazione di sportelli d'ascolto territoriali, dalla formazione per operatrici e operatori all'implementazione della rete antiviolenza e poi la prevenzione nelle scuole ai fini della sensibilizzazione, oltre che superare nei media stereotipi e linguaggi sessisti. A Catania, Adrano, Mister Bianco, Motta Sant'Anastasia, Paternoparte, il progetto Venti a favore delle donne percorsi di libertà per donne che subiscono violenza, presentato oggi e ideato dall'Associazione Tamai Ollus, da anni impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e dalla Fondazione con il Sud. È un programma che in altri tempi sarebbe stato definito multidisciplinare, che agisce dunque su vari livelli e che si fonda sull'esperienza di chi. Giorno dopo giorno affronta non un problema, ma il problema per molte donne, spesso celato dalle mura domestiche. Il progetto prevede tre assi di intervento. Il primo, il potenziamento dell'accoglienza, quindi opere di apertura del centro antiviolenza che da 16 passano a 25, apertura telefonica e corrisponde poi a un'accoglienza implementata sia a livello telefonico ma anche fisico al centro. Potenziamento anche nel territorio con l'attivazione di due nuovi sportelli, uno sul Paternò e uno sul comune di Adrano, ma anche in alcuni punti strategici della città come l'Unione Italiana Cechi per raggiungere le donne con disabilità che subiscono violenza, che faticano ad accedere a un servizio specializzato come il nostro, ma anche il centro a stalli per raggiungere invece le donne migranti rifugiate richiedenti asilo. La seconda azione è quella relativa alla rete antiviolenza. Oggi avremo qui i nostri partner che confermano il lavoro sinergico che da 20 anni portiamo avanti e in particolare col Policlinico attiveremo un tavolo per quanto riguarda la violenza che le donne subiscono nel periodo della gravidanza, che è un periodo particolarmente critico. Infine un'attività di formazione anche giornalisti, leggiamo ancora purtroppo articoli di giornale che rivittimizzano le donne che subiscono violenza, che le giudicano, che fanno passare un messaggio sbagliato per quanto riguarda la violenza, pieno ancora di stereotipi di genere dei quali dobbiamo assolutamente tutti e tutte liberarci. Ormai da anni l'associazione lavora nelle scuole di ogni ordine e grado. In questo progetto in particolare ci dedicheremo alla fascia d'età che va dai 4 ai 7 anni, quindi fine infanzia, inizio primaria. Nel corso del tempo molti passi sono stati fatti in avanti, malgrado ciò il rapporto uomo-donna non raggiunge forme di equilibrio. Soprattutto noi che viviamo in una città del meridione dove il disagio economico è molto forte, molto sentito, il rapporto di potere uomo-donna è sicuramente sbilanciato a favore dell'uomo, proprio perché la donna molto spesso nella nostra società meridionale in particolare non ha un'emancipazione economica e quindi questo la rende possibilmente la vittima di queste forme di violenza anche economica, non solo di violenza psicologica e di violenza fisica, ma anche di violenza economica che le impedisce di poter gestire la propria vita in piena autonomia chiedendo rispetto anche da parte del partner. Sono 371 i migranti arrivati oggi a Lampedusa in diversi sbarchi, tra questi 119 nelle ultime ore di cui 10 con la scabbia, poi una donna al secondo messe di gravidanza e ancora un uomo con una ferita ad un braccio è stato subito portato al polo ambulatorio, tutti invece sono stati, tutti gli altri sono stati trasferiti all'hot spot che ricordiamo da qualche giorno è gestito dalla Croce Rossa, tra l'altro sta montando una polemica per una missione della Commissione Libe, la Commissione Libe è la Commissione interna al Parlamento Europeo che si occupa delle politiche dei migranti in sena all'Unione Europea, oggi a Lampedusa, anche per una dimostrazione a bordo della nave d'attilo della Guardia Costiera, pare che sia stato modificato il programma e pare che al Sindaco di Lampedusa non sia stato comunicato nulla, quindi non abbia potuto prendere parte alla dimostrazione, peraltro dal valore non solo politico ma anche sostanziale, da qui la polemica che si sta sviluppando anche in queste ore. Torniamo a Catania, andiamo al passiatore, cioè al percorso pedonale che unisce la stazione ferroviaria centrale a Piazza Martiri della Libertà, nel degrado sporcizie ed erbaccia accolgono i turisti diretti verso il centro barocco. Fu inaugurato il 21 dicembre del 2004 dopo decenni di oblio. Parliamo del passiatore. L'allora sindaco Umberto Scapagnini tagliò il nastro della passeggiata a 450 metri che collegano Piazza Giovanni XXIII a Piazza dei Martiri. Un boulevard, si disse, elegantemente pavimentato in pietra lavica e in pietra bianca di Comiso, con panchine in ghisa e aiuole. Poi le palme, tutto restituito alla fruizione dei cittadini. Andò bene all'epoca, poi il degrado. Malgrado il passiatore sia una delle corsie pedonali preferenziali per chi, raggiungendo Catania in treno, desideri spostarsi verso il centro storico, davvero a pochi passi, dalla passeggiata che versa in condizioni non ottimali. Siamo stati fortunati, hanno detto alcuni residenti fruitori del passiatore durante la registrazione delle riprese video. Siete venuti in un giorno dove qui è tutto pulito, ma a noi pulito non è sembrato. Bottiglie rotte, sporcizia abbandonata qui e là. Anche la prospiciente parte, probabilmente di competenza di rete ferroviaria italiana, non dà proprio il meglio di sé con erbarce incolte a rendere ancora più triste il paesaggio. Ne abbiamo parlato con il neoassessore all'ecologia del comune di Catania. Ieri ci siamo insediati, quindi sono i primissimi giorni, le primissime ore di lavoro, incessante H24, però non c'è dubbio che una situazione come quella appena citata, così come purtroppo tantissime altre in città necessita di interventi immediati. Al netto delle competenze e dei disguidi su chi sia competente in materia RFI, comuno o quant'altro, non c'è dubbio che chiunque lo sia dobbiamo subito intervenire, quindi lo faremo da subito. In giornata già sentiremo gli uffici, attiveremo le ditte e produrremo un intervento urgente. Ma non c'è dubbio che non possiamo continuare con l'emergenza, dobbiamo cercare di andare più a fondo e capire come risolvere il problema a monte. Lei ha già annunciato dei correttivi in quello che è il sistema di raccolta e sbattimento dei rifiuti, anche per eliminare le discariche che purtroppo in questi mesi si sono formate costantemente lungo il territorio. Diciamo che, come abbiamo già detto, non partiamo da zero. Quindi grande apprezzamento per il lavoro fatto, per il lavoro dei precedenti assessori, per il lavoro degli uffici. Però è chiaro che è complice magari la mancanza di una guida politica in quest'ultimo anno ci si sia un po' arenati. E quindi non c'è dubbio che di concerto con il sindaco, con l'amministrazione tutta, con tutta la squadra di governo della città, l'ambiente, la questione dei rifiuti è particolarmente sentita non solo da chi è residente e vive a Catania, ma anche da chi passa da Catania, dalle aziende, dai turisti e quant'altro. E' sotto gli occhi di tutti che qualcosa non va. E quindi bisogna intervenire. La logica sanzionatoria, punitiva, va bene, perché ci sono degli esempi di civiltà che vanno puniti e repressi, però non basta. Stiamo cercando di immaginare come entrare nelle case dei catanesi, nelle aziende di chi ha sede a Catania e quindi come immaginare e di incentivare questa raccolta e di sviluppare un sistema virtuoso anche a Catania. Si può, accade in altre città d'Italia, lo faremo anche a Catania. E su direttive impartite dal neoassessore Alessandro Porto a Catania, la polizia locale ha intensificato l'attività operativa. Una decina di sanzioni hanno riguardato altrettanti operatori commerciali per violazioni delle norme di legge o regolamentari. Tra queste, in piazza Abramo Lincoln è stato sanzionato un commerciante per l'undicesima volta nell'anno solare. Si tratta di un venditore ambulante che pur essendo in possesso di licenza itinerante, secondo l'accusa, aveva ancora una volta trasformato l'attività commerciale in sede fissa. L'International Fashion Week sbarca a Catania da l'1 a 3 luglio. Il capoluogo Etneo sarà appunto di riferimento della moda con grandi stilisti e giovani emergenti. Vediamo. Catania si prepara ad accogliere l'alta moda. Il capoluogo Etneo sarà scenario privilegiato della quinta edizione dell'International Fashion Week. Da sabato 1 luglio a lunedì 3 grandi stilisti, fashion designer e giovani emergenti News Generation saranno protagonisti della tre giorni di moda, arte e cultura promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer che quest'anno ha scelto la città Etnea per ospitare l'evento con la sfilata delle collezioni 2023-2024 e la consegna dei prestigiosi Golden Muse Award. L'evento italiano internazionale darà così risonanza alla città di Catania, polo d'attrazione della moda e da sempre sensibile allo stile e le nuove tendenze. Una Secret Fashion Week di gala dove le storiche realtà italiane della moda made in Italy incontreranno le nuove proposte produttive e creative internazionali. Il vecchio che ritorna e si fonde con la novità incorniciato dal fascino del barocco catanese. Perché Catania? Allora noi abbiamo scelto Catania perché il nostro è un progetto che parte dal sud e quindi abbiamo sempre avuto un gemellaggio con la nostra Sicilia e poi per dare risonanza quindi a una città come Catania che da sempre venera lo stile, la creatività, l'apertura mentale, le nuove tendenze e l'eleganza di quelle che sono poi le eccellenze della made in Italy a livello internazionale. Il nostro motto è quello di sostenere e valorizzare i giovani fashion designer però avendo sempre la presenza delle grandi firme, quelli che hanno comunque dettato un po' le leggi, hanno fatto la storia della moda del made in Italy. Carlo Alberto Terranova e Giovanni Cannistrà, i primi due nomi big annunciati che riceveranno nella serata in programma domenica 2 luglio a Palazzo Biscari l'ambito premio assegnato ad illustri personalità che si sono distinte anche a livello internazionale per alti meriti. Terranova è un'autorevole firma del made in Italy del fino ed erede dell'indimenticabile maestro Fausto Sarli, avvestito numerose celebrità nel 2017 e al David di Donatello con una capsule collection e presenta la prima collezione Sarli New Land Couture nell'ambasciata svizzera di Roma. Nella sua lunga carriera ha ricevuto numerosi premi. Cannistrà, messinese di nascita e catanese d'adozione, è invece cresciuto e si è formato tra i banchi dell'Istituto Italiano della Moda patrocinato da Lancetti, dell'Istituto Europeo di Design e della Scuola per Modellisti di Ida Ferri. Particolarmente amato dalle principesse arabe per i suoi modelli unici di femminilità, ha portato le sue sfilate in diverse parti del mondo. Ma l'International Fashion Week sarà anche molto altro. È occasione unica per scoprire tutte le novità della moda 2023-2024. Si terranno degli shooting fotografici, delle collezioni dei nostri nomi altosonanti che parteciperanno poi all'evento di giorno 2 e in più giorno 3 invece ci sarà un gemellaggio con quella che è l'Accademia di Belle Arti di Catania, in particolar modo con il corso di fashion design, dove il nostro Golden Muse Award Filippo La Terza si aprirà alle nuove generazioni con tutta quella che è stata la sua carriera e i suoi apici che l'hanno portata al successo. Scenderanno in campo anche le vecchie glorie della Cireale Calcio, venerdì sera alla Pala Volcan nel corso di un triangolare che è stato organizzato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Presentato stamani nella sala conferenza del Palavolcan di Cireale il triangolare di calcio a 5 insieme per aiutare l'Emilia Romagna colpita da una devastante alluvione che ha messo in ginocchio le popolazioni e le imprese della martogliata regione. La manifestazione sportiva la sera di venerdì 23 giugno con inizio alle ore 19 è sempre nel locale del Palavolcan con la partecipazione straordinaria delle vecchie glorie della Cireale Calcio negli anni della Serie C2, C1 e Serie B. L'ingresso sarà libero ma ognuno potrà avversare un contributo economico in un'apposita urna. Il ricavato verrà consegnato alla Caritas che provvederà a recapitarlo agli alluvionati tramite i canali ecclesiastici. In campo scenderanno anche gli atleti, i protagonisti dei campionati professionistici degli anni 90 e una delegazione di calciatori degli anni 60. Sarà una grande festa di sport e solidarietà, spiega il Presidente del Comitato Cese del CSI, Salvo Raffa. La nostra terra è abituata a vivere fenomeni alluvionali, terremoti, per cui sappiamo cosa significano queste situazioni. Ragione per cui abbiamo voluto in occasione anche di un momento importante, qual è quello appunto anche i 30 anni della promozione in Serie B della Cireale Calcio, richiamare durante una manifestazione di beneficenza, davanti a un triangolare di beneficenza, anche le nostre vecchie glorie, quelle che hanno fatto le glorie del nostro Cireale Calcio. Insieme, ecco, una rete che si mette insieme per costruire solidarietà, per costruire anche, diciamo, aiuto, soprattutto a una popolazione che vive ancora oggi momenti di difficoltà. Anche la pastorale giovanile della Diocesi di Cireale ha aderito all'iniziativa. Don Horatio Sciacca ha coinvolto i tanti giovani che praticano il gioco del calcio come sport e aggregazione. Abbiamo accolto subito l'invito proposto dal CSI a partecipare a questo triangolare di Calcio 5 e soprattutto a essere presenti, a essere presenti con il nostro supporto, con la nostra stessa vita, perché chiaramente quello che vogliamo dire a queste popolazioni è che ci siamo. Lo stiamo dicendo tramite questo triangolare, tramite questa raccolta fondi, ma lo vogliamo dire con la nostra vicinanza, con il nostro affetto. Tra i partecipanti anche gli atleti della Scandura Fitness di Luca Scandura, impegnato in diverse attività di solidarietà sociale. È un piacere stare accanto a questa tipologia di manifestazioni. Questa è una delle poche occasioni in cui si scende in campo magari non per vincere, ma per dare, per aiutare. Allora stiamo accanto a chi sta combattendo, a chi ha combattuto questa battaglia e cerca di ritornare alla normalità. Il triangolare di Calcio 5 è come occasione di confronto con le varie associazioni che si occupano di sport e le recese e di verifica sullo stato di salute dell'impiantistica abbiata dal nuovo assessore allo sport, Rosario Raneri. Ovviamente ci siamo messi subito al lavoro. Io come assessore allo sport andrò ovviamente e visiterò tutti gli impianti sportivi andando quindi a vedere quali sono le problematiche. Ma soprattutto quello che a me interessa è la gestione dell'impianto sportivo, perché gestire un impianto sportivo significa fare una manutenzione ordinaria, significa farlo vivere, significa metterlo a disposizione ai nostri concittadini e soprattutto ai più giovani. Eccoci nuovamente in onda. Dopo la pubblicità non ci sono notizie dalla redazione. Chiudiamo questa edizione di Ora Tg con il meteo. Le previsioni del tempo in Sicilia del 21 giugno si entra anche dal punto di vista del calendario in estate ed è estate anche per quel che riguarda il tempo. Vedete dal cartello sole ovunque nella nostra regione con venti praticamente assenti. I mari saranno poco mossi, quasi calmi. Le temperature adesso in risalita soprattutto le massime un po' ovunque stazionari, le minime. Con il meteo noi ci fermiamo. Termina questa edizione di Ora Tg. Prossimo appuntamento in diretta con il nostro telegiornale domani alle ore 14. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata a voi tutti. Grazie. Grazie a tutti.